Sono 108 le iscrizioni pervenute all'ufficio tecnico del comune di Leffe, banditore di un concorso di idee volto alla partecipazione di architetti e ingegneri sul tema riqualificazione urbanistica di Piazza Libertà. È andata oltre le più rosee aspettative, avendo superato le 100 iscrizioni credo che la Piazza di Leffe abbia così richiamato l'attenzione di numerosi progettisti e quindi dia lustro a quello che è il comune di Leffe per quelle che saranno poi le proposte che verranno presentate. L'ITAR cosa prevede a questo punto? Entro il 2 aprile ci sarà la consegna degli elaborati e vedremo quanti dei 108 iscritti faranno parte di quelli che sono gli elaborati che verranno esaminati. L'intervento dovrà tenere in considerazione degli edifici che si affacciano sull'area interessata, la chiesa del XVIII secolo e le case gentilizie della medesima epoca. La nostra aspettativa è quella di rivedere l'arredo urbano, la viabilità, la zona di vita parcheggi, così vorremmo, era la nostra intenzione appunto, recuperare queste idee per anche noi così avere una visione più nuova, più innovativa di quella che è la piazza, quindi un punto nevralgico del paese. Sarà valutata la possibilità di inserire spazi verdi per rendere ancora più accogliente il cuore del centro cittadino. Devo dire che la piazza di Leffe ha anche una dimensione abbastanza importante magari rispetto alle piazze dei nostri paesi, potrebbe essere che ci siano zone a verde così come l'asse viario potrebbe subire delle variazioni, come ripeto noi abbiamo nel nostro programma voluto inserire questo ammodernamento che sarà possibile, sarà realizzabile attraverso soprattutto l'ausilio di queste idee, sono idee appunto, c'è un vero e proprio concorso che verrà quindi anche premiato con tre premi, il primo, il secondo e il terzo, che daranno così all'amministrazione anche una visione più globale di quelle che sono queste migliorie da effettuare.